Chioggia TV Anche quest'anno con l'arrivo della primavera, Claudia Piscina e Fitness ha aperto per un weekend alle porte del suo centro in occasione del tradizionale appuntamento Open Day. Per i clienti l'occasione di approfittare di alcune vantaggiose promozioni è, per chi il centro non lo conosceva, la possibilità di scoprire l'offerta ricchissima che la struttura del Claudia offre. Palestra, piscina, VIP Center, qualità e professionalità del personale, Claudia Piscina e Fitness rappresenta l'eccellenza nel campo del wellness. Un appuntamento fisso dell'Open Day è poi il grande party che si svolge nella sera del sabato presso il Tomato di Sottomarina. Organizzata da Claudia Piscina e Fitness insieme a Chioggia TV, Radio BCS e Mascalzoni Marini, la serata, chiamata per l'occasione We Love Fitness, ha raccolto grandi consensi, facendo ballare fino all'alba clienti e non del centro. In Trenchtown, I'm on my mission Serata speciale We Love Fitness al Tomato questa sera. Siamo con Enrico, responsabile della serata. Ciao Enrico! Ciao a tutti! Enrico, raccontaci com'è organizzato questa serata e che cosa vuoi da questa serata? Beh, io l'obiettivo unico di questa serata è esclusivamente quello di far sentire tutti quanti i nostri clienti, non dei clienti, ma di un gruppo di amici che assieme collaborano per la riuscita di una serata del genere. Siamo qui con Nicola Doria, responsabile di tutto il centro Claudia Piscina e Fitness. Nicola, per quest'estate avete intenzione di fare delle offerte speciali per i vostri clienti, per i new adetti? Che cosa volete fare? Certo, già dal mese di maggio-giugno saranno disponibili dei pacchetti speciali, scontati, promozionali per quanto riguarda i corsi di acquagym, idrobike e per quanto riguarda sia il noto libro ci sarà un ampio servizio dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera. L'ultima chicca del nostro centro estivo è il nostro centro estivo dove i bambini possono passare tutta la mattinata, da lunedì al venerdì, dalle 8 e mezza a mezzogiorno in un ambiente sano, confortevole, dove possono praticare attività sportive quali il nuoto, il cavallo, escursione in gommone, tennis e altri sport. Grazie a tutti!